Che il Signore ci dia pace nel cuore, ci toglie ogni voglia di avidità, di cupidiggia, di lotta, no? Pace, pace. Che il nostro cuore sia un cuore di uomo o donna di pace. E oltre le divisioni delle religioni, no? Tutti, tutti, tutti. Perché tutti siamo figli di Dio. E Dio è Dio di pace. Non esiste Dio di guerra. Quello che fa la guerra è il maligno, è il diavolo. Che vuole uccidere tutti. Pregare incessantemente per la pace nel mondo, lacerato da interessi economici e avidità, oltre ogni divisione, oltre ogni differenza, fino a provare vergogna per quello di cui è capace l'essere umano. Prima di partire per Assisi, per il trentesimo anniversario dell'incontro interreligioso per la pace tra i popoli, Papa Francesco ha celebrato la messa a Santa Marta e ha messo a fuoco l'importanza di questo appuntamento. Oggi nel mondo, ha rimarcato, si soffre tanto per la guerra. Ci sono paesi che sono toccati da sanguinosi attentati e ci sono paesi in cui le persone vivono sotto le bombe. Uomini e donne, bambini e anziani ai quali non arrivano cibo e medicinali. Il pontefice ha chiarito che la preghiera ad Assisi non vuole essere uno spettacolo, ma una giornata di preghiera e di penitenza per la pace, un forte richiamo a non rimanere sordi dinanzi al grido di dolore di questi fratelli e sorelle che soffrono ogni giorno per la guerra.